L'approccio è stato buono anche se nel primo tempo per un quarto d'ora a venti minuti la squadra non mi è piaciuta tantissimo perché siamo stati poco puliti nel palleggio, abbiamo concesso un po' troppe ripartenze a loro. Sapevamo che avrebbero cercato questa palla sopra la nostra testa con grande continuità sia dalla difesa che di prima per metterci in difiota, la amo essere un pochino più bravi a leggerla prima, nel primo tempo. Invece dopo la squadra, dopo il 2-0, il 3-0, mi è piaciuta tantissimo per quello che ho espresso, per la gestione della palla, per la continuità che ha avuto durante la gara. Ci sono tanti aspetti in questa partita, dall'esordio di Riccardi, la doppietta di Schick, alcuni giocatori come Carzop e Pastore che hanno giocato 90 minuti, se dovesse sceglierne uno solo? No, il fatto che abbiamo giocato diversi giocatori 90 minuti e ne avevano bisogno perché venivano da un periodo in cui si stanno allenando veramente bene sia il Flaco che il Carzop e sono contento che abbiano retto per 90 minuti significa che anche la tipologia di lavoro che abbiamo fatto è stata positiva. Di negativo c'è sempre che purtroppo ci sono tanti infortuni, casuali o altre situazioni che non ci permettono di avere continuità su tanti altri giocatori. Sono differenti perché ha più palleggio ovviamente il Flaco Pastore ed ha più capacità di mandare in verticale i propri compagni mentre Zagnolo è più prorompente fisicamente anche nell'attaccare gli spazi e magari nell'andare a cercare la conclusione. Però ho messo tre giocatori che hanno fatti tre quartisti, chi in passato, chi dopo, però con buona qualità. Devo dire che Brian è cresciuto veramente tanto, specialmente nella gestione della palla, anche negli spazi stretti quando è aggredito dagli avversari, sempre con ottima personalità. Lorenzo, mentre nel primo tempo all'inizio era un po' disordinato, non tanto abituato a fare questo ruolo, andava un po' in giro per il campo, invece dopo si è rimesso un po' in ordine in questo senso qua e siamo stati secondo me più puliti nell'andare a ricercare determinati spazi e anche nelle coperture difensive. Si vede che hanno lavorato, magari non tutti nello stesso modo, c'è chi aveva bisogno veramente di recuperare, però in allenamento vedeva una squadra spigliata, volitiva, si allenava con il desiderio di divertirsi. E questo è un aspetto molto importante, l'aspetto mentale dopo essere tornati con due vittorie consecutive e con la voglia di ripartire alla grande è un segnale positivo. Al di là dell'avversario che abbiamo affrontato oggi, perché vi assicuro che non è mai facile ripartire e far bene con qualsiasi squadra, l'approccio che ha avuto sia negli allenamenti che nella partita della squadra, sono contento. Abbiamo, come ho detto prima, concesso qualche palla di troppa in profondità, ma nell'insieme generale anche nelle difficoltà abbiamo difeso bene. Di questo sono contento, uscire due partite consecutive senza prendere gol è un aspetto molto positivo.